I casi tra i giovani, l'età media in Italia è scesa a 35 anni, 40 la settimana scorsa a 35, questo vuol dire che vengono trovati sempre più giovani positivi. Questo pone poi il problema, il dibattito si riapre sulla possibilità effettivamente di tornare a scuola il 14 settembre. Noi parliamo di questo con Mario Rusconi dell'Associazione Nazionale Presidi e con Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. Partiamo dall'appello dei presidi che c'è stato. Rusconi, buongiorno. Voi temete che i ritardi generali sulla scuola, ad esempio questa storia dei banchi monouso, monoposto, ricadano poi su voi, sui presidi? Ma noi confidiamo che il 14 settembre si possa riaprire la scuola in piena sicurezza. Certo, ci sono dei ritardi perché la pandemia ci ha preso completamente un po' alla sprovvista. Aspettiamo i banchi monoposto, aspettiamo di avere più insegnanti e collaboratori scolastici, cioè i bidelli, per le sanificazioni e tutte le misure igieniche. Aspettiamo soprattutto di sapere come i nostri studenti potranno essere inseriti nelle classi in piena sicurezza. Teniamo conto che con il virus purtroppo noi stiamo scontando una serie di problemi e di difficoltà che si sono accumulate nel corso di almeno 20 anni. Vale a dire l'edilizia scolastica purtroppo è sempre stata trascurata e adesso abbiamo appunto le cosiddette classi pollaio, 25, 26, 27 studenti. È difficilissimo poter mantenere il distanziamento di un metro. Sarà necessario laddove il proprietario della scuola, perché attenzione le scuole non sono proprietari dei locali, ma sono proprietari comuni per quanto riguarda scuole elementari e medie e provincia e città metropolitana per le superiori. Se gli enti locali non riescono a trovare spazi esterni adeguati sarà necessario ricorrere per esempio nelle scuole superiori ad una turnazione utilizzando per i gruppi classe che rimarranno una volta a settimana, due volte a settimana a classe a casa con la didattica digitale, la cosiddetta didattica a distanza che è naturalmente stata spesso demonizzata, ma alla didattica a distanza nei momenti del blocco, del lockdown, qual era l'alternativa? Il piccione viaggiatore. Allora è una misura che va presa, naturalmente sperando che sia presa nel minor tempo possibile e soprattutto per poche classi. Grazie, grazie Mario Rusconi. Andrea e subito dalla professoressa Viola. Intanto ricordiamo che oggi ci sarà una riunione del Comitato Tecnico Scientifico proprio per fare il punto sulle misure da adottare in vista della riapertura delle scuole del 14 settembre e ne parleremo, affronteremo questo tema. Ma intanto, professoressa Viola, il Comitato Tecnico Scientifico sta valutando l'idea di fare dei test rapidi se si dovesse verificare un caso di Covid a scuola. Secondo lei, dal suo punto di vista, questa sarebbe la scelta giusta per circoscrivere il contagio e soprattutto rassicurare il personale della scuola e i genitori? Buongiorno a tutti. Sì, senz'altro, allora, in questo momento per la ripartenza il grosso collo di bottiglia è rappresentato dai test classici, cioè dai tamponi attraverso appunto la PCR perché i tempi, abbiamo visto, sono troppo lunghi e noi non possiamo aspettare così tanto nel caso di un sospetto di Covid. Quindi in questo momento sono davvero benvenuti tutti quei test rapidi che nel giro di mezz'ora, un'ora, riescano a darci una risposta. Un po' quelli che in questo momento si stanno sperimentando, si stanno utilizzando negli aeroporti. È ovvio che dobbiamo avere la certezza che questi test siano appunto efficaci, nel senso che identifichino realmente le persone positive, però una volta avuto questo strumento in mano, questo sarà uno strumento importantissimo per identificare i positivi, tranquillizzare le famiglie dei bambini della classe in cui eventualmente ci fosse il positivo, così come anche gli insegnanti. Quindi assolutamente è la strada giusta. Tornerei da Mario Rusconi dell'Associazione Nazionale Presidi. Ecco, dal suo punto di vista, cosa succede a scuola se si scopre un caso positivo? C'è differenza se si tratta di un singolo ragazzo o di un professore che segue magari più classi o addirittura del personale addetto alla mensa, per esempio? Allora, le indicazioni date dal Comitato Tecnico Scientifico, già da tempo, oggi poi aspettiamo la riedizione di queste indicazioni, prevedono che un ragazzo, un insegnante, un bidello, un preside, perché no, per il quale si capisca che ci sono dei sintomi del virus, possa essere, diciamo, allontanato. C'è una stanza particolare, un'aula particolare in cui viene inserito. Poi, se si tratta chiaramente di un ragazzo, sarà chiamata la famiglia. In ogni modo abbiamo anche la possibilità di rivolgersi alle ASL di zona, perché possa intervenire anche un medico competente. Questo ci fa capire come abolire il medico scolastico una ventina di anni fa sia stata, mi permetta l'espressione, forse un po' forte, sia stata una, diciamo così, ricetta insensata, perché avrebbe significato veramente venire incontro alla salute dei nostri studenti. Grazie Mario Rusconi, grazie Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. E torneremo tra poco, alle 7.33, proprio su questo tema. Avremo ospite il dottor Miozzo, Agostino Miozzo, che è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, alle 7.33. Ma adesso parliamo...